Tutti questi chilometri della falsificata che mi sono fatta sono per dirvi una cosa sola Che cosa ci vuoi fare con la tua vita? Ce la faccio io a rispondere a una domanda più grossa? Ci vuole tanto coraggio a rimanere dove sei, a non farti queste domande Invece, se tu usi meno coraggio e te le fai, puoi correre il rischio di essere felice Devi capire chi sei, ti devi ascoltare, ti devi vedere Chi si ama si donna, cioè se non ti ami come ti doni, ti sveglia al primo che passa Al primo che passa di ragazzo, di amico, è faticoso capire quello che vuoi e cambiare strada Perché sono al mondo, ormai ci sono, va bene? Perché ci sono? Cosa devo fare qua? Quindi la notizia per cui ho fatto Mezzo Italia è questa Ragazzi miei, la vita la potete buttare così da avere il cuore e fermastemi Non rimane nessuno, te lo dico Il punto è che tu diventi qualcuno, cioè diventi pieno, diventi felice Se tu spendi la tua vita per qualcosa di grande Grazie a tutti